Ciao a tutti, sono Gianluca Bocci e quella che vedete, se io l'ammetto, è proprio la mia patta. Che tra l'altro è la citazione di un album molto famoso, indovinate un po' qual è? La risposta è ovviamente dopo. Le pacelline, prima le conclusioni. E però oggi parliamo di, guardate un po' nella tasca, wow! Ma qui c'è Digasabrick, Degetrotal, in play su un lettore piccolissimo, è della Ruizzo, si chiama A50, ed è un DAP, un digital audio player, un compagno compatissimo e inseparabile per la nostra musica preferita. Ma salutiamo un attimo la patta e andiamo a vedere lui, giustamente, più da vicino. Allora, questa è la confezione di vendita che non vi faccio neanche vedere perché all'interno troviamo soltanto il lettore. Eccolo qui, il cavetto micro USB per la ricarica e le istruzioni che sono ovviamente in inglese e in italiano neanche a parlarne. Il lettore è davvero bellissimo, davanti tutto in vetro, dietro comunque in alluminio con queste sagomature che insomma è un oggettino minuscolo e davvero stupendo. Ovviamente per funzionare abbiamo bisogno anche di una schedina micro USB che andiamo a inserire in queste due feritoie, qui oggi vorrei mettere spesso a fuoco, vedete, l'ingresso micro USB per la ricarica e appunto per la nostra schedina. Se come a me tenete le unghie molto corte vi consiglio di utilizzare una graffetta aperta in questo modo per rendere il tutto più facile. Andiamo a rimettere a fuoco, in alto c'è il tasto, pressione lunga e c'è l'accensione. Ruizu HD, il modello è anche riportato sul retro con tutte le specifiche, appunto A50 e vedete è già subito pronto. E lui torna sull'ultimo album che abbiamo selezionato. Legge MP3, l'ho provato anche con i FLAC, l'ho provato anche con i file DSF, questo qui è i Genesis, Narsary Crime funziona senza il minimo problema. Sul lato sinistro abbiamo il tasto indietro e le freccette, anche qui andiamo a rimettere velocemente a fuoco. Possiamo andare a scorrere le cartelle, torniamo sempre indietro, vado a prendere per esempio i Pink Floyd, metto un brano qualsiasi, riproduce, vedete che l'interfaccia è anche in italiano, si seleziona e tra poco vi mostrerà anche la copertina. Eccola, ovviamente ad essere caricata in formato massimo 600x600 pixel, massimo 60 KB, però è piacevole, sotto è riportato il numero dell'album, del brano, i minuti, la posizione della traccia rispetto a tutte le tracce dell'album, quindi davvero informazioni complete, come anche qui in alto avete batteria, equalizzazione, tipo riproduzione e volume. In tutto c'è questa rotellina qui che possiamo ruotare per alzare e abbassare il volume, come vedete, oppure giustamente quando stiamo tra le tracce la scorriamo per andare a scegliere le singole tracce. E possiamo scegliere appunto se metterla in coda o se riprodurla subito. Quando siamo in riproduzione, la pressione, ovviamente breve, permette di passare su varie opzioni, tipo la modalità di riproduzione, casuale, ripeti e così via, o anche andare a scegliere l'equalizzatore, che può essere, vedete, rock, pop, soft, jazz, classic, tecno e via dicendo, oppure off. Tornando indietro, la pressione lunga della rotellina mette in pausa in maniera molto semplice. Il tasto sopra, che è accensione e spegnimento, compressione lunga, compressione breve, blocca tutti i tasti esclusi la rotellina, perché il controllo del volume rimane comunque sempre attiva. Altra pressione breve, l'andiamo a sbloccare. Tornando ancora più indietro con il menu indietro, abbiamo tutto il menu principale. Quindi abbiamo, vedete, play settings, possiamo impostare, vi faccio vedere il menu di impostazione, dove abbiamo, per esempio, la lingua. Qualche piccola scivolata c'è praticamente, per esempio, vedete, timer di spegnimento, timer di spegnimento, dice, ma che senso ha? Ok, andiamo un attimo in inglese. Devo cercarlo adesso. Dov'è l'English? Eccolo. Torniamo indietro e capiamo che sull'impostazione c'è lo sleep timer, cioè, vedete, diciamo, guarda, ci fa ascoltare musica mentre ci addormentiamo e poi ti spegni, e c'è l'off timer che invece dopo quanto tempo, effettivamente, si spegne automaticamente se non lo stiamo utilizzando. Quindi qualche scivolata di traduzione c'è. Possiamo anche scegliere, appunto, le impostazioni sulla musica, creare delle categorie, come andare a visualizzare le cartelle, possiamo sull'equalizzatore andarcela addirittura a creare noi, come vogliamo, l'equalizzazione. Quindi possiamo andarci a giocare davvero. Ma, al di là di tutto questo, batteria che dura tantissimo, con una carica, io ce l'ho fatto, grosso modo, una decina di ore di riproduzione, quello che, forse vi chiederete, ma così piccolo e così carino, come si abbina con le cuffie? Bene, andiamo a parlare, appunto, di cuffie. Allora, vi dicevo, questo piccolino ha un dettaglio sonoro davvero impressionante. Con qualsiasi tipo di file lo rende, in maniera molto musicale, estremamente piacevole. Davvero un concentrato di tecnologia e di musicalità. Ma, le cuffie. Allora, l'abbinamento ideale sono, ovviamente, degli E-Ear, tipo questi KZ, di cui vi rimando qui sopra la prova completa, anche perché, se vogliamo, nella loro custodia, messo qui dentro, pronto, e ci portiamo della musica dietro, nella maniera più piacevole e portatile possibile. Con questi, diciamo che, per i miei gusti, con un volume messo a 25 si sente in maniera bella forte, quindi, qui la potenza basta e avanza. Invece, se ci andiamo ad abbinare la mia classica, amata Sennheiser HD 650, che poi, tra l'altro, questa, avendo il cavo bilanciato, praticamente il solo adattatore da bilanciato a mini jack stereo pesa quanto questo piccolino, quindi fa un po' sorridere, ma qui, messo il volume a 100 al massimo, qua è un volume bassissimo e basta qualsiasi passaggio un po' veloce per metterlo effettivamente in crisi. Quindi, abbinamento assolutamente sconsigliato. Un abbinamento dignitoso, anche se comunque siamo un po' a limite, sono con il mio grado RS2i. Qui, mettendo il volume sulla testa, con un 75 si sente bene. Nella mia prova, in realtà, lo metterò al 100% per farvi sentire che non c'è la minima distorsione. Certo che anche qui l'adattatore da jack grande a mini jack fa sempre sorridere come adattamento, ma con questa cuffia, che comunque si pilota nettamente, in modo più facile rispetto all'HD 650 di Sennheiser, si sente bene. E quindi adesso, ragazzi, buon ascolto e dopo, ovviamente, pacelline. Io sono un malfidato, qualcuno mi ha fregato, quando vedevo il mondo, entra da un incantesimo, stavo come un cane, ad oscillare la coda, ma adesso se vi incontro, vi metto a dura prova. Io tengo sotto occhio la fata di Pinocchio, che fa tanto la santa e poi salta nel mucchio la buona biancaneve che aiuta i sette nani con le pupille a palla a segar tutti quei rami. Bene, spero che l'ascolto vi sia piaciuto e adesso vi dico cosa è piaciuto a me di questo lettore. Innanzitutto, le dimensioni, è piccolo, carinissimo, l'avete visto in apertura, entra nella taschina piccola dei jeans, davvero è uno spettacolo. Design così moderno, con queste linee sfaccettate, davvero un oggettino bello, piacevole, sia al tatto sia alla vista. Legge di tutto, mp3, flac, file dsf in alta risoluzione, davvero qualsiasi file musicale gli date, lui se lo legge senza il mio problema e, l'ho sottolineato, ragazzi, quanto legge bene. Vi lascio qui sotto il link in descrizione, andate a vedere il prezzo, io l'ho pagato sui 50 più o meno, davvero incredibile il rapporto qualità-prezzo di questo gioiellino. Cos'è che non mi piace? Il fatto che non c'è nessuna custodia. Comunque è un oggetto delicatino, la superficie è tutta in vetro, in cristallo, quindi farlo cadere per terra è possibile. Una custodia, oppure i classici due elastici per lasciarlo fissato a qualcosa, non lo so, proprio non c'è niente in dotazione. E poi, ma è un dettaglio, il salto traccia si sente. Se voi ascoltate rock classico, non è un problema. Se ascoltate, come a me, molto rock progressive, tipo i classici concept album, tipo Digas a Brick, che vi ho fatto intravedere all'inizio, Digital Total, che succede tra il passaggio, tra la prima e la seconda traccia, in realtà è un continuo, la musica, e quindi quello spazietto di silenzio in mezzo dà un po' fastidio, ma niente di terribile. E se avete seguito tutto dall'inizio, avete indovinato qual era l'album che citavo con la patta dei miei jeans, l'album è Rullo e Tamburi, questo, Sticky Fingers, dei Rolling Stones, questo album stupendo, che aveva appunto, vedete, la patta, con tanto di pattuella, la zip, sul davanti e all'interno, fatto gravazione con Handy Whirl, quindi c'entra anche la mia passione per la fotografia, l'arte e via dicendo, qui all'interno. Quindi, se vi piace questo album, siete sicuramente sulla mia stessa lunghezza d'onda, quindi dovete iscrivervi, cliccando sul bollino in alto. E se volete vedere un altro dei miei video, ve lo suggerisco qui a fianco. E quindi da Gianluca, da questo bellissimo, piccolissimo, carinissimo player, ciao e alla prossima! Grazie a tutti!